Stefano Dineola è responsabile del Dipartimento delle Relazioni Sindacali di CNA Nazionale, ho seguito direttamente il confronto che è intercorso con il Governo per la strutturazione di quello che oggi conosciamo essere il maggior provvedimento dell'ultimo periodo in tema di mercato del lavoro e che va sotto nome di Jobs Act. La posizione della nostra Confederazione rispetto a questa importantissima riforma è una posizione di sostanziale positività, anzi vorrei dire di grande positività rispetto a un meccanismo che è stato impiantato dal legislatore e dal Governo Renzi che sembra già iniziare a dispiegare i propri effetti positivi. Abbiamo potuto registrare nei primi mesi dell'anno un incremento importante infatti dei contratti a tempo indeterminato e riteniamo che complessivamente l'occupazione nei prossimi mesi possa iniziare a crescere nuovamente. Sia chiaro, non è un provvedimento che da solo può in qualche modo stimolare una crescita anche occupazionale se le imprese non hanno bisogno di assumere personale, però questo è uno strumento che è stato realizzato e che in termini di architettura nel momento in cui le imprese dovessero avere bisogno di un nuovo personale potrà essere una garanzia di funzionalità e di un approccio anche nuovo al mercato del lavoro nell'interesse della nostra collettività, nell'interesse economico di tutto quanto il nostro Paese, nell'interesse di una crescita che dobbiamo riuscire a riagganciare in quanto riguarda. Grazie.